FCA strappa in borsa. In una giornata positiva sui listini per l'auto in particolare, il gruppo agguanta la soglia di 14,5 euro, con un guadagno del 2,47% sulla spinta dei report degli analisti. È nuovo record dalla quotazione a ottobre come Fiat Chrysler. Se si considera la vecchia Fiat, le lancette tornano indietro di 17 anni ad agosto 98. A far da traino è sempre Ferrari che secondo gli analisti è ormai da considerarsi a tutti gli effetti una società del lusso. Risultato? La valutazione passa a 7,7 miliardi da 6,6.